Via al mese di giugno ed ecco lo start per la diciassettesima edizione degli Sport Days. Con la presenza del Vescovo di Avelino e il Monsignore Arturo Aiello, è stata inaugurata la Kermesse che apre a tutte le discipline in vetrina al Campo Scuola Coni di Via Tagliamento. Quest'anno è stata molto più dura degli altri anni, visto il cambiamento della location, visto le tante difficoltà, soprattutto logistiche, però come vediamo le istituzioni e naturalmente soprattutto l'associazione di volontariato. e le società sportive con i loro atleti sono presenti in massa. Questo sta a significare che il discorso di aprire soprattutto alle discipline sportive che non hanno un'evidenza mediatica adeguata in questa occasione trovano il loro punto di forza perché ricordiamo che il Sport Days è per i più piccoli e per i bambini è contro la specializzazione precoce perché vi sia veramente lo sport per tutti. Nel messaggio di apertura Monsignore Aiello ha ricordato lo spirito sportivo e la capacità del saper perdere. È la lezione più difficile che un genitore oggi possa dare ai figli. Speriamo di essere all'altezza, di insegnare loro anche a perdere perché la nostra è una società che tende a vincere e ovviamente vince uno, vincono alcuni e i perdenti rischiano di restare ai margini.